Quindi i tutorial sul web fanno cagare? Assolutamente no. Rappresentano la soluzione per colmare una lacuna a un problema molto specifico in una maniera molto immediata. Questo sistema però è adatto a delle persone che hanno già una visione di insieme della materia, un robusto sistema di lavoro, hanno già costruito centinaia di puzzle e soprattutto che sanno distinguere qual è una fonte autorevole da una fonte che non lo è. Ma se stai partendo da zero e tutta questa esperienza non ce l'hai potresti metterci decenni per ottenere il risultato e allora è importante che tu ti affidi a un professionista serio che ti dia la guida con la sua esperienza e ti dia degli stimoli per ottenere i risultati che vuoi nel tempo che ti stai aspettando. Ed un professionista poiché ci ha messo decenni per arrivare a livello attuale dell'esperienza che ha non può certo pensare di regalare tutto questo come se non avesse nessun valore. Ed è per questo che la didattica di qualità va pagata. Insomma l'alternativa adesso la conosci. Vuoi prendere la mulattiera in montagna e pure scalzo? O l'autista in limousine e andare a tavolette in autostrada? A te la scelta! Grazie! 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 Grazie!